Bentornati su MyFootballJersey. Vi mostro spesso maglia retro, ma questa veramente fa un tuffo triplo nel passato. 31 anni fa, 1993, questa è la maglia del Manchester United. Sì, 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 sì. La maglia è molto bella. Questo blu, tra l'altro fuori dagli schemi, bellissimo. Tessuto molto bello, le finiture mi piacciono sul bianco, allora aveva alidas come adesso, peraltro. La maglia mi piace tantissimo. Ditemi nei commenti voi cosa ne pensate. Il costo, l'avete visto, basso, la qualità, vi assicuro, è veramente molto buona e i tempi di spedizione sono eccellenti. Vi lascio ora la parte finale, prima però vi chiedo, come al solito, iscrivetevi al canale. È un piccolo gesto, ma ci aiuta a mostrarvi maglie belle come questa, tutti i giorni. Alla prossima! Ciao! 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 Grazie.